25 anni di attività festeggiati dalla Cicli Grand Zone, un'attività ormai storica nel ciclismo in Friuli, Venezia, Giulia e non solo. Tanti grandi personaggi, da Davide Cassani a Alessandro De Marchi, a Andrea Tarlao, a Matteo Fabbro, il futuro del ciclismo friulano, presenti per un'azienda storica, per un'azienda che è diventata un mito per le due ruote nella nostra regione. Un'azienda che da stasera vuole iniziare a pensare ai prossimi 25 anni, che sarà davvero bellissimo viverli tutti assieme. Intanto facciamo un grande applauso al commissario tecnico Davide Cassani. Che per rompere il ghiaccio Davide abbiamo una penna e Davide andrà a firmare direttamente questo assegno che poi verrà consegnato alla Polisportiva Basket e non solo. Grazie, grazie Davide. Io direi che potremmo, per scaldare, Davide rimani qua, facciamo la foto con i ragazzi della basket e non solo. Ragazzi venite qui tutti, così scaldiamo un po' l'ambiente. Venitevi qua davanti, è arrivata anche la presidentessa Paola Zelanda, subito pronta per le foto. E complimenti, abbiamo una serie di personaggi stasera di altissimo spessore, altissimo livello, ma mi pare giusto anche iniziare la serata facendo un grosso applauso, un grande applauso a questi ragazzi. Signor Sindaco, per favore, grazie, Sindaco Fulio Onsel e c'è anche Alessandro De Marchi in sala. Allora, Alessandro se puoi, vieni qua, eccolo qua, un applauso anche a Alessandro De Marchi. Andrea Tarlao, Andrea dove sei? Andrea, eccolo qua, un applauso a Andrea Tarlao. Una volta li abbiamo invitati sul palco per le foto di Rito. Siamo un po' sul green carpet della Grand Zone qui a Udine. C'è anche, tanto saluto, professore Govetto, eccolo qua, è arrivato, l'ho visto adesso, professor Bruno Govetto, l'assessore della SPOL della provincia di Udine, c'è anche lui. venuto a... Grazie, assessore, siamo a posto con le foto. A posto? Dennis, a posto? Ok, allora possiamo effettivamente cominciare. Io ringrazio per la presenza e vorrei cominciare questa serata dando subito la parola al Sindaco che so che è essere Reduce da Teleton, è vero, signor Sindaco, le lascio il microfono. Benvenuti a tutti, 25 anni di Grand Zone, di attività nell'ambito del ciclismo, ormai più che un nome è un mito nel ciclismo, non solo nel frutto di Venezia Giulia. Il saluto di Fulio Orsel. Buonasera, innanzitutto congratulazioni caro Grand Zone e anche alla famiglia appunto che vedo tutta impegnata. Insomma questo è uno dei punti, quando si entra a Udine da sud, questo è uno dei luoghi appunto che immediatamente fanno capire che Udine è anche una delle città importanti del ciclismo. Grazie a lei e anche a questa platea qui che riunisce tantissimi atleti sotto appunto tante discipline diverse, tutti accumunati però dalla voglia di superare qualunque limite, qualunque barriera, anzi a fare proprio delle barriere, superate il trampolino per andare oltre come appunto gli atleti del basket e non solo. E quindi un grande grazie, un grazie alla comunità friulana, udinese e ovviamente molto vicina al mondo della bicicletta, il mondo del ciclismo, noi lo promuoviamo anche come amministrazione comunale, la qualità dell'aria non mi preoccupa appunto quando arriva l'inverno c'è il riscaldamento, c'è l'alta pressione e tutto e l'invito è sempre per favore usate di più la bicicletta, usate di più, cercate, non solo, non fatevi stressare dalle scadenze, dagli orari, magari appunto arrivate qualche minuto dopo però è molto più sano e dunque lei è un alleato, io credo, di tutti coloro che vogliono promuovere stili di vita sani e anzi direi di più, caro Granzon, lei è veramente un benefattore dell'umanità per quello che riesce a fare promuovendo la bicicletta, quindi le auguro non soltanto oggi tutta la soddisfazione per i 25 anni di attività ma le auguro appunto di proseguire, di continuare con questo messaggio di salute che c'è nel promuovere lo sport e la bicicletta e anche la bicicletta proprio come mezzo di trasporto in questa città, quindi congratulazioni, complimenti e complimenti anche a tutti i grandissimi atleti che sono qui oggi presenti. Grazie a Fulio Onsel e io direi proseguiamo con i saluti istituzionali e poi ci passiamo alla parte sportiva per cui attraverso il parterre e do la parola a Beppino Govetto, ossessore allo SPO della provincia di Udine. Grazie, buonasera a tutti anche da parte mia, naturalmente un saluto caloroso e cordiale alla famiglia Granzon per questa attività che conduce splendidamente da 25 anni e devo dire che di questi periodi portare avanti un'attività e portarla ai massimi livelli in momento di grande crisi credo sia veramente un vanto di cui dobbiamo dare atto alla famiglia Granzon ma come diceva il sindaco, consideriamo di benefattori dell'immunità perché promuovono l'uso della bicicletta e quindi un uso di una mobilità sostenibile, pulita che è estremamente importante ma io devo sottolineare come la famiglia Granzon si avvicina anche a tutto il movimento sportivo del ciclismo e non solo, anche di diversamente abili con una sensibilità che dimostrano ad ogni manifestazione quindi veramente complimenti per questa vostra vocazione direi, per questa voglia di sostenere le attività sportive che certamente vi fa onore e va ad aumentare quella che è la vostra bravura nel condurre questa attività. Grazie. Grazie a Beppino Govetto mentre lui parlava di mobilità sostenibile è arrivato anche l'assessore Enrico Pizza che so che è uno che ci tiene davvero tantissimo a questi dettagli saluto anche gli amici del comitato regionale della fedel ciclismo ho visto il presidente Battistella e quello là ci sono gli amici del comitato provinciale di Udine ci sono gli amici dell'Axi Franco Bon l'ho visto anche lui per cui insomma siamo davvero tutti Dino e io a questo punto stavo guardando la medaglia di bronzo che è al collo di Andrea Tarlao abbiamo medagliati olimpici abbiamo atleti di livello nazionale abbiamo il commissario tecnico della nazionale siamo tutti qua per festeggiare il ciclismo nazionale grazie abbiamo il massimo del ciclismo nazionale l'orgoglio dell'Italia io sono orgoglioso di avervi qui vi ringrazio ringrazio innanzitutto tutte le maestranze che hanno voluto presenziare farci un presente chi non ha potuto mi ha mandato le mail quindi voglio ringraziarli di cuore da parte della famiglia Grandon e da parte del nostro staff quindi che dire un quarto di secolo che siamo presenti nel territorio che offriamo un servizio che abbiamo raccolto anche parecchie soddisfazioni le soddisfazioni una fra tutte è questa avere una platea di gente che testimoniano testimoniano un qualcosa che non è stato fatto così tanto per fare è qualcosa che da che ti porta al cuore veramente un qualcosa di serio quindi questi 25 anni ti portano ad avere una una un qualcosa anche di solidale perché dopo tanti anni si capisce la la ragione per cui si fa questo e si guarda sempre al futuro la cicli Grandon e io come famiglia abbiamo cominciato a pensare anche al al a chi ne ha più bisogno a un solidale ecco che eh oltre che aver creato con del gruppo di società il Criterium Friuli Venezia Giulia che è un challenge di eh di corse di cicloturismo a un fine a uno scopo benefico cioè vengono fatte una raccolta di fondi e quest'anno verranno donati a ad un paese terremotato che probabilmente il sindaco di Remanzacco con cui noi abbiamo la nostra correlazione affideremo affideremo al sindaco di Remanzacco che con il sindaco andremo a versare a dare questa donazione in questa serata particolare la daremo a la nostra Paola con il loro eh la loro squadra e quindi eh la ringrazio molto e quindi che dire eh questa è la nostra attività e questa è la nostra propensione per il futuro grazie Paola siamo noi a dover ringraziare eh aver pensato alla nostra società la nostra società ha due principali obiettivi uno che è quello dell'attività sportiva eh in modo particolare dell'handbike dove abbiamo raggiunto risultati di grande livello su dieci anni di campionato italiano abbiamo vinto sette volte al primo posto due volte al secondo e una volta al terzo queste sono gare che vengono svolte in tutta Italia e affrontano eh trasferte molto lunghe e anche difficoltose perché oltre alle trasferte normali che affrontano tutti i ciclisti loro devono legare anche tutte le problematiche legate alla disabilità trasporti ristoranti hotel eh che sembra molto facile ma credetemi quando ci spostiamo in tanti trovare da dormire o i trasporti per tutti ci vogliono comunque trasporti sempre attrezzati e non è facile e i costi sono tanti quindi ringraziamo tutti quelli che ci possono sostenere questa attività l'altra attività è uguale ci dà molto molta gioia perché è il basket in carrozzina e questo ci permette di andare nelle scuole a fare educazione non solo stradale ma anche educazione civica per insegnare eh l'accettazione del del diverso e tutte le varie problematiche eh prima di passare che poi eh desidero dare a Grand Zone il nostro scudetto che vedete racchiude un po' quello che noi vogliamo rappresentare allora è un cerchio e dentro ci sono due mani c'è la palla di del basket che è stata la prima disciplina che ha messo insieme questo questo gruppo e un batticinque un batticinque che vuol dire ok per l'attività sportiva ma anche quello che è il nostro motto principale insieme si può infatti unendosi tutti insieme siamo riusciti a portare a casa questi splendidi risultati che uno da solo invece ha immaginato e fa eh molta fatica quindi con grande soddisfazione vorrei qua anche i ragazzi che stasera purtroppo eh alcuni sono ammalati alcuni sono distanti ma vorrei qui a consegnare questo eh scudetto questo gagliardetto anche gli altri perché eh abbiamo appena detto insieme si può e siamo tutti quanti loro sono gli artefici io eh ho il compito del trovare i fondi organizzare ma sulle strade a correre a fare sacrificio sono loro e quindi eh è sempre un grazie di cuore che dico a loro vedo anche eh Francesco grazie 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 davvero a tutti io passo io passo di nuovo davanti adesso vi chiedo cortesemente di scendere rimango con con Dino qui al al palco e anche perché che poi andremo a sentire uno per uno tutti gli ospiti ho visto sono andati a pesare la medaglia anche Alessandro Reduce dalle Olimpiadi per cui avremo di cui parlare di questo mi ha colpito una cosa nel comunicato ma anche in tutte le parole non si parla tanto dei 25 anni che sono già stati ma il concetto è stiamo lavorando per i prossimi 25 cosa c'è? cosa bolla in pentola? sicuramente è solo un quarto di secolo quindi è solo l'inizio per noi abbiamo abbiamo il futuro abbiamo abbiamo un programmato per altri per altri 25 25 con uno staff giovane uno staff preparato uno staff in cui vede sempre nelle nella tecnologia e nelle nelle novità quindi questo sicuramente è un vedere nel futuro si evolve talmente veloce la 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 il mondo che noi sicuramente dobbiamo starci dietro cioè sta cambiando senza che ci accorgiamo proprio totalmente quindi noi con una certa età facciamo un po' più fatica però deleghiamo subito i più giovani un applauso a Dino che voi non lo sapete ma per l'occasione ha messo anche la cravata io non l'ho mai visto Dino Veranzon con la cravata stasera l'ha indossata anche perché era giusto così Davide Cassani chiedo cortesemente di entrare qui sul palco abbiamo professionisti abbiamo anche Enzo Cainero che ci è nascosto che ringraziamo Alessandro De Marchi Andrea Tarlao questi ragazzi che emozioni questa sera qui a Udine Davide intanto buonasera a tutti sì emozioni perché alla fine abbiamo abbiamo dei campioni chi ha conquistato delle medaglie chi ha cercato di mettere al servizio della squadra la capacità e la generosità per conquistare una medaglia che ci è sfuggita per pura sfortuna e quindi devo ringraziarli per quello che fanno tra l'altro ho visto che c'è anche Fabbro un ragazzo molto bravo che è stato con noi al Tour dell'Avenire e sarà Under 23 anche l'anno prossimo e quindi è una terra di campioni una terra di corridori di ciclisti Matteo dove sei? Matteo, Fabbro Matteo dove è? vieni qua vieni qua vieni qua anche perché abbiamo gli atleti di oggi ma anche quelli di domani ha fatto bene Davide Cassani a ricordare anche quello che è uno dei sicuramente migliori Under 23 in Italia Davide Dino parlava di ricerca di adeguarsi al futuro che incombe il futuro del ciclismo che cosa ci regalerà a livello tecnico ma anche a livello di uomini ne abbiamo uno qui ma sai in Italia adesso abbiamo come sempre un buon movimento abbiamo corridori come Nibali e come Aru che sono stati in grado di vincere grandi corsa tappe ci manca un po' il corridore da corsa di un giorno ed è anche per questo motivo che fatichiamo anche in corse come il campionato del mondo e quindi quello che stiamo facendo in federazione è quello di investire sui giovani cercando di portarli alle corse tra i professionisti organizziamo stage li abbiamo portati al tour dell'avenir l'importante è proprio lavorare sui giovani per poi avere dei campioni nel futuro questo è il nostro obiettivo di professionisti quest'anno ce ne erano tanti 122 siamo il movimento con il maggior numero di professionisti nel mondo però abbiamo qualche problema con le squadre infatti qui abbiamo un corridore che milita in una squadra americana sai una volta 30-40 anni fa il ciclismo era Spagna Italia Belgio Francia adesso arrivano gli australiani arrivano i britannici arrivano i colombiani arrivano gli americani e quindi arrivano corridori da tutto il mondo si è globalizzato il ciclismo ed è anche per questo motivo che facciamo qualche fatica in più per ottenere i risultati che abbiamo ottenuto sempre Alessandro De Marchi tu arrivi sei uscito da Cycling Team Friuli c'è la stessa società di Matteo c'è anche Renzo Boscolo qui in Platea partire da Buia e arrivare alla BMC che tipo di viaggio è stato e dove ti poterà? scusatemi buonasera che viaggio è stato? è stato lungo e ci sono state diverse tappe difficili e così impegnative però come hai detto tu hai fatto riferimento al Team Friuli e il Team Friuli è strettamente legato a Lino e al suo negozio e alla sua attività e hai detto bene perché il Team Friuli è stata una tappa fondamentale nella mia crescita e nel mio sviluppo come corridore come atleta io senza Renzo Boscolo e Roberto Bressan probabilmente non sarei arrivato dove sono quindi all'interno del Comune di Udine non c'è solo un'attività importante come quella di Lino ma c'è anche chi fa agonismo nel modo sano e serio e questo sono sicuro che il sindaco lo conosce bene e lo sa bene per me è stato fondamentale e non posso fare a meno di ricordarmelo sempre io cerco di passare quel poco tempo che ho a casa negli allenamenti con i ragazzi del Team Friuli cerco di aiutarli in questa crescita e penso che siano nel posto giusto poi starà loro riuscire ad arrivare dove sono arrivato io grazie Alessandro devo svelare anche una cosa perché Matteo che è stato ospite a una trasmissione televisiva qualche settimana fa ha la domanda ma hai un punto di riferimento e tu hai detto Alessandro De Marchi e quindi è tutto in famiglia non era preparata per cui davvero mi fa piacere prima di coinvolgere anche Andrea e vedete perché sta facendo fatica a tenere su questo peso importante chiedo una domanda ancora per Matteo hai qui Davide Cassani hai qui Alessandro De Marchi Davide Cassani in varie occasioni ha detto Matteo Fabro è uno su cui possiamo contare senti un po' la responsabilità o è più per te una motivazione oddio è un po' entrambe in realtà in quanto non è semplice portare sulle spalle certi pesi perché le parole pesano però è anche uno stimolo perché vuol dire che tutto il lavoro svolto con la squadra insomma ripaga un applauso un applauso a Matteo Fabro Andrea Tarlao che è un atleta tutto tondo ha corso anche a Teleton e quindi adesso è qui che sta cercando di recuperare medaglia di bronzo a Rio Andrea che emozione è stata? intanto buonasera a tutti beh la medaglia di bronzo paralimpica non è solo un risultato sportivo è un è l'arrivo di un percorso di vita effettivamente da quando sono nato dalla paresi al braccio che ho avuto da quando sono nato se non fosse stato per lo sport non sarei neanche qui e la mia famiglia non sarei qui a raccontare insomma questa storia di tutto questo percorso di vita e di sport ha fatto parte anche Gran Zone io ho corso qualche anno e ho bei ricordi veramente bei ricordi vittorie amicizie quindi sono orgoglioso di essere qua e faccio gli auguri di buon compleanno a Lino e tutta la famiglia e grazie per avermi ospitato questa sera sono veramente contento un applauso della Talao Dino siccome sono tutti comunque atleti di un certo spessore e ho visto che i grandi appassionati stavano guardando le biciclette che sono qui esposte prima ho provato a chiedere a Davide Cassani ma dove ci porta anche a livello tecnologico il futuro vogliamo dire che Gran Zone ha dei partner importanti e magari ricordiamo anche quella famosa serata di 12 anni fa con Nanne Pinarello qui assolutamente sì questa sera mi riporta indietro di una decina d'anni forse più quando ho inaugurato questo negozio ho voluto portare qua del ciclismo italiano il passato il presente e il futuro mi ricordo che una delle foto importanti di quella di quella di quella giornata di quella serata era proprio quella lì era il passato con Nanne Pinarello Giordano Couture e il presente in quel periodo era Davide Bruseghin no Marcio Bruseghin Marcio Bruseghin e quindi c'era il passato il presente e il futuro il futuro era proprio assieme a Isia Spinelli eravamo proprio un qualcosa che preludeva nel Friuli una crescita un qualcosa di innovativo proprio si è mosso nel Friuli e lì poi è cominciato abbiamo partito quella serata lì e sono stato molto contento di aver avuto queste persone che purtroppo ora non sono più però sono indelebili nel nostro ricordo persone che hanno fatto del ciclismo e mi hanno aiutato perché con un brand come Pinarello nel mondo c'è poco da scherzare è un qualcosa di unico è il brand italiano nel mondo più richiesto uno dei più richiesti insomma ecco per me ringrazio molto la famiglia Pinarello con cui sono legato in particolar modo e con tutte le altre aziende con cui ho sempre lavorato quindi la mia attività sarà sempre preposta verso il ciclismo e verso un futuro di ciclismo sociale un ciclismo vissuto praticato questo è importante grazie Dino un anno dopo forse qualcosa di più quella serata Marzio Buseghin vinse a Pordenone la sua prima gara da professionista ed era il campionato italiano a cronometro nella prima settimana tricolore organizzata da Enzo Cainero Davide Cassani quella volta faceva il commentatore della RAI mi pare è vero al di là dell'aneddoto lui ha parlato di passato presente e futuro qui abbiamo solo il presente dei marchi tra l'ao e il futuro però riguardando il passato e magari proprio questa terra c'è un evento o un aneddoto particolare che Davide Cassani ricorda sì 1979 c'era la Udine e Forni di sopra e io vinsi la prima tappa da Udine a Forni staccai tutti poi il giorno dopo c'era l'ultima tappa da Forni a Udine e andai all'attacco nonostante avessi la maglia correvo per la centergrossa poi sull'ultima salita a San Daniele una salita facile saltai per aria e alla fine arrivai quarto e vinse un mio compagno di squadra Gianluca Giardini e ricordo benissimo che poi nella premiazione c'era Giordano Couture era il 1979 e tra tutti i ragazzini che eravamo lì arrivò Giordano da me e disse tu diventerai un corridore e mi disse così Giordano Couture e si è sbagliato no però adesso io vorrei raccontare anche vorrei raccontare Alessandro la tua convocazione per io potremmo raccontarla che dici siamo sicuri siamo sicuri allora io ho sempre avuto una grande stima in Alessandro a tal punto che quando non era ancora il De Marche di oggi quindi parlo dell'inizio di stagione del 2014 feci il mio primo raduno a Lido di Camaiore e ad un certo punto Alessandro non è di tante parole è sempre sembra che sia un friulano vero pedala tanto lavora tanto ma parla poco e viene e mi dice ma Davide ti chiedo una cosa ma per vestire la maglia azzura cosa devo fare guarda secondo me se continui a pedalare come stai pedalando adesso una maglia azzura prima o poi arriverà e arrivò la maglia azzura a Ponferrada tra l'altro quel giorno a Ponferrada è stato il migliore azzurro è stato raggiunto sull'ultimo strappo poi siamo naturalmente rimasti in contatto e quando ho visto il percorso di Rio ho pensato ad Alessandro De Marchi perché secondo me era l'uomo giusto per fare un certo lavoro e quindi nell'inverno quindi l'inverno scorso parlando con Alessandro gli ho chiesto scusami ma qual è il tuo programma ma farò il giro farò il tour e vedremo ho detto ok se fai il tour de France secondo me avrai la condizione giusta per venire a Rio va al giro d'Italia non va benissimo perché tra l'altro è stato anche male di salute va al ritiro con la squadra un giorno mi chiama pochi giorni prima del tour e mi fa guarda Davide lo devo dire non mi porto nel tour de France allora io a quel punto ho detto guarda allora staremo a vedere se riuscirò a portarti a Rio oppure no e quindi ho messo in dubbio la sua partecipazione lui era nero un po' perché l'avevano lasciato a casa dal tour e si era allenato in altura con i compagni di squadra dopo il giro per il tour e un po' perché vedeva sfumare il sogno di vestire la maglia azzurra alle Olimpiadi passa qualche giorno e ci ritroviamo due giorni prima del campionato italiano a Boario quindi siamo a fine giugno raduno i probabili olimpici raduno un po' di corridori parlo con ognuno di loro arriva il turno di Alessandro De Marchi e prima di cominciare a parlare arriva lui e mi fa Davide se mi devi dire che sto casa da Rio dimelo subito ma da cattivo ha detto oh aspetta Natum vediamo e quindi non è che gli ho detto no e non gli ho detto neanche sì ha detto guarda ci sarà il giro della Polonia vediamo come andrà il giro della Polonia e poi decidiamo lui il giro della Polonia è stato bravo è andato sempre all'attacco ha lavorato per i compagni di squadra come al solito e alla fine l'ho portato a Rio è stata così sì è stata così io penso che Andrea possa capire cosa significa partecipare a un'olimpiade io avevo questo questo sogno sempre lì che che aspettava l'avevo toccato così toccato sfiorato esatto nel 2012 e qualche anno prima diciamo per via della della pista però ero rimasto sempre così con la mare in bocca e però sapevo che era una un traguardo una manifestazione che non ha niente a che fare con tutto il resto con i tour con i campionati del mondo e per me era davvero il pallino della stagione avrei avrei potuto vincere tappe a destra manca ma onestamente avrei scambiato tutto con la partecipazione a Rio e alla fine ci siamo riusciti ne ho portati cinque non sono tanti e quindi Alessandro De Marchi è stato tra i cinque partiamo Alessandro doveva fare i primi chilometri da stare attento alla prima fuga partiamo appunto essendo una gara con cinque corridori loro devono stare particolarmente attenti anche perché l'Italia era una nazione di riferimento tutti guardavano noi le squadre più importanti quali erano? noi Gran Bretagna perché c'era Fruma e la Spagna per Valverde primi chilometri cominciano gli scatti De Marchi prova una volta due volte tre volte poi prova Caruso ad un certo punto dopo 20-25 chilometri non c'erano le radioline arriva all'ammiraglia e mi fa guarda Davide qua ci fanno neri l'unica cosa è lasciare andare la fuga poi ci penso io a tirare è andata via la fuga si è messo a tirare per 150 chilometri e ha dato la possibilità ai compagni di squadra di stare a ruota e quindi come al solito ha fatto una grande corsa e fino a quando sono io commissario tecnico un Alessandro De Marchi in forma verrà sempre in mondiale promesso testimoni Alessandro ok cosa deve fare cosa deve fare Matteo Fabbro per meritarsi un trattamento simile a quello per Alessandro De Marchi deve diventare rosso come lui dalla fatica a parte che non siamo tanto lontani sai Fabbro è un io seguo molto gli Ander 23 seguo gli Uniori sono coordinatore generale di tutte le corse e vado gli stage vado le corse cerco di convocare ragazzi come Fabbro in nazionale per farli correre tra i professionisti è un ottimo scalatore è stato bravissimo al Tour de l'Avenir che è un piccolo Tour de France è un corridore che deve ancora crescere è un corridore che tra l'altro ha avuto dei problemi e quindi ha 22 anni l'anno prossimo è il quarto anno nella categoria l'anno prossimo tra l'altro avrà un'altra grande opportunità rinascerà il Giro d'Italia di Lettanti sarà un Giro d'Italia anche abbastanza impegnativo con le ultime due tappe molto impegnative e quindi deve avere come principale obiettivo il Giro d'Italia se andrà bene il Giro d'Italia alla fine secondo me avrà la possibilità di passare al professionista perché le caratteristiche le ha perché ripeto ha avuto dei problemi ha cominciato a correre tardi e ha secondo me margini di miglioramento e quindi il Friuli può schierare un altro professionista tra l'altro se andiamo a vedere anche Rio io avevo Alessandro De Marche nel femminile c'era la Cecchini nel mountain bike c'era Braidotta quindi poi Tarlao tanti friulani fanno parte delle nostre nazionali ci sarebbe anche Elia Viviani che ha vinto l'oro che è fidanzato con Elena a proposito c'è la famiglia Cecchini anche in sala se mi fate un cenno li salutiamo complimenti Andrea Tarlao Alessandro De Marche ha detto sì effettivamente essere a Rio è stata una grandissima emozione però vorrei coinvolgerti anche sul fatto che tu oltre a correre con la nazionale corri anche nei circuiti locali perché ti abbiamo visto più volte partecipare per esempio alla corsa per Haiti di Sante Chiarcosso che è qui in sala un applauso anche per Sante e quindi ti alleni su queste strade con queste biciclette spiegaci com'è che percorsi fai come ti alleni parlando parlando dell'esperienza a Rio devo dire che comunque sono sincero la prima è stata a Londra e non la dimenticherò mai anche perché sono arrivato quarto anche per quello non me la dimenticherò mai comunque devo dire che Rio non è stata bella forse come Londra come organizzazione non era proprio il massimo però mi ha portato fortuna e ho vinto una bella medaglia e forse con un po' di esperienza quattro anni in più sono riuscito a raccogliere il risultato che a Londra non avevo preso e per quanto riguarda le gare beh effettivamente noi siamo noi paralimpici siamo un po' nel limbo non possiamo non siamo né professionisti né amatori è difficile per noi correre ho avuto la possibilità qualche anno fa di correre in deroga con i dilettanti riusciamo se qualcuno ci dà il permesso fare le gare amatoriali siamo un po' ancora lì è difficile la situazione è un po' complicata speriamo che si che si apra qualcosa qualche porta che insomma ci dia la possibilità anche a noi come i nostri avversari di poter correre anche con i professionisti perché in gara con me c'erano dei professionisti l'australiano l'ucraino Dementev che ha vinto adesso anche in Giappone ha vinto una gara a tappe quindi io da amatore corro e lavoro insomma mi sono difeso grazie grazie a Andrea coinvolgerei ancora Davide Cassani perché è stato fantastico l'aneddoto eccezionale anche la storia non sapevamo effettivamente tutto quello che è successo nella convocazione di Alessandro rimanendo però qui in Friuli mi dispiace che non ci sia più Enzo Cainero però vorrei che ci parlassi anche un po' di tutto quello che succede a livello organizzativo qui perché le tappe del Gio d'Italia sono importanti ma c'è anche tutto un movimento che viene rappresentato qui che spinge e suda passione per le due ruote mi piacerebbe se potessi raccontarci anche che cosa significa arrivare dall'Italia arrivare qui in Friuli e vedere tutto questo ma sai siete stati bravissimi perché siete riusciti a creare il mito dello Zoncolan una salita una strada sconosciuta fino a 15 anni fa poi da Guidolin a Cainero a tutti coloro che si sono prodigati siete riusciti comunque a creare questo mito cioè che un amatore evoluto deve prima o poi fare lo Zoncolan e non è cosa semplice io la feci questa salita diversi anni fa proprio con con Guidolin e con il povero Franco Ballerini fu una bella giornata organizzata sempre da Enzo Cainero perché il bello del Friuli è che quando veniamo qui a pedalare senti il calore della gente la partecipazione tra l'altro anche la famosa salita del Crostis l'unica salita che è diventata famosa anche senza essere stata fatta perché quel giorno ci furono dei problemi e quindi saltarono e non fecero la salita cioè riuscite comunque tutte le volte a creare degli eventi e quindi questo penso che sia per il territorio che naturalmente è molto bello con strade salite durissime ma anche con la vostra capacità di coinvolgere l'ambiente di coinvolgere la gente quindi il bello di correre in Friuli anche quest'anno la tappa che c'è stata è che quando pedali su queste strade senti il calore di tutta la gente che viene ad applaudirci grazie a Davide tra l'altro ha ricordato quella tappa del Crostis io ero inviato da Antonio Simerodile messaggero Veneto sul Crostis sono stato lì tre ore a aspettare che arrivasse qualcuno non c'era nessuno sono tornato giù a piedi e vabbè e sullo Zoncolan posso arrivare anch'io magari con la pedalata assistita oppure con la pedalata assistita oppure no assolutamente sì anzi sarà il futuro però se finisse le batterie è un casino quindi occhio fa la discesa comunque sicuramente sicuramente a proposito di bici elettriche questo è un motivo proprio per promuoverle perché sicuramente sicuramente sarà il futuro l'ecosostenibilità delle bici elettriche sarà sicuramente un mezzo con una filosofia particolare per chi ne fa uso per il divertimento per il cicloturista vero e proprio e non è da vergognarsi lo Zoncolan lo si deve fare anche con una bici così ed è la soddisfazione di arrivare sopra di fermarsi fare due foto o fare la chiacchierata questa è una filosofia che sta entrando sta entrando nei media nei massi veramente perché siamo in un periodo di clima climatologia pessimo quindi io auspico auspico che l'ecosostenibilità sia prioritaria e quindi la bici elettrica è una di quelle di quelle componenti che faranno parte quindi noi siamo pronti Alessandro De Marchi mi viene da vedere a pensare di farti la domanda del tipo io posso arrivare sullo Zoncolan con la bicicletta a pedalata assistita tu no cosa pensi di uno che ti chiede una cosa del genere? sono sono d'accordo con Lino su questo argomento dal punto di vista turistico e ambientale sono sono una carta su cui vale la pena investire per quanto mi riguarda non ho mai avuto la fortuna di di provarla e nemmeno di così di utilizzarla su su uno Zoncolan però sì non farebbe male farebbe comodo però andiamo oltre le regole e non va bene esatto adesso penso di prenderne una io per allenarmi con loro quindi quindi gliela darò volentieri Andrea dice che a Davide Cassani non serve sicuramente si vede che è in forma è anche abbronzato lo vedo bene siccome altro aneddoto mi piacerebbe siccome Davide Cassani è un tipo che non si ferma mai mi piacerebbe che tu ci raccontassi cosa hai fatto prima di arrivare qua perché eri a Bologna mezz'ora fa poi devi ripartire domani sei da un'altra parte dopo domani in giro non ti fermi mai questa mattina c'era un convegno della Suzuki che è sponsor della federazione ciclistica italiana quindi ero a Bologna al motor show con la Suzuki poi alle tre c'era anche la premiazione del comitato regionale Emiliano Romagnolo qui tra l'altro c'è il presidente del Friuli non sono riuscito a venire a quello del Friuli l'altro giorno perché dovevo andare a quello del Trentino Alto Adise e poi domani c'è Radio DJ perché facciamo sempre questa trasmissione in diretta con Stefano Baldini e Linus domani a mezzogiorno e quindi diciamo che non mi annoio però riesco comunque ancora ad andare un po' in bicicletta e correre anche a piedi quindi questo mi permette di stare ancora abbastanza in forma dai facciamo un altro applauso chiedo ancora alla sala un attimo di concentrazione poi consegneremo l'assegno Dino ha parlato dei prossimi 25 anni ma ci vuoi raccontare anche tu la tua esperienza qui dentro e soprattutto le tue idee certo buonasera a tutti io sono Luca il figlio di Lino e Lino ha parlato del presente e del passato della cicli gran zone cicli gran zone è pronta anche ad affrontare il futuro avete accennato alle nuove tecnologie che penso porteranno in sella tantissime persone avremo avremo molti compagni ciclisti che con noi correranno nel prossimo futuro dobbiamo essere pronti e noi lo siamo ovviamente siamo preparatissimi abbiamo uno staff giovane abbiamo Andrea Stefano Maurizio sono tutti i ragazzi che collaborano con noi sono giovanissimi Samantha che cura la nostra parte digitale siamo pronti ad accogliere a braccia aperte un nuovo ciclismo probabilmente e tante tante persone che vorranno condividere con noi i valori e la la bellezza del del pedalare grazie Luca e complimenti a tutti i ragazzi dello staff gran zone siamo quasi in addirittura d'arrivo quindi vediamo lo striscione dell'ultimo chilometro prossimi appuntamenti li chiedo a tutti anche perché inizierà la stagione 2017 fra un po' Alessandro ti stai già allenando quali sono i tuoi obiettivi per il 2017 ormai l'attività non si ferma mai quindi siamo già di nuovo in sella e il 2017 spero che mi riservi un tour de France perché mi manca un po' quindi quello potrebbe essere uno dei primi obiettivi e poi il finale di stagione potrebbe essere azzurro vedremo se qualcuno mantiene le promesse io vedrò di farmi trovare pronto e quello potrebbe essere il secondo obiettivo per quanto mi riguarda cominceremo già a gennaio con gli stage per junior under 23 ne faremo uno tutti i mesi di tre giorni per testarli per stare insieme a loro a gennaio prima trasferta con la nazionale maggiore in Argentina il giro di San José dove porteremo soprattutto i pistard perché poi a febbraio ci saranno le due prove di Coppa del Mondo in aprile i campionati del mondo in pista Hong Kong e poi anche l'anno prossimo ci saranno i campionati europei nella prima settimana di agosto 24 settembre è il campionato del mondo a Bergen in Norvegia quindi dai 40 gradi della Qatar ai non so quanti dei Bergen in Norvegia tra l'altro Bergen è la città più piovosa della Norvegia in tutto tutto quindi prepariamoci per un campionato del mondo bagnato Alessandro ordina un keyway a Lino Grand Zone Matteo 2017 sicuramente ci sarà appunto il giro d'Italia il tour dell'avenir e poi magari un mondiale teniamolo lì Andrea 2017 saranno due anni interessanti ci sarà nel 2017 la Coppa del Mondo Maniago e nel 2018 il mondiale sempre a Maniago quindi venite a vederci sarà bello ci sarà Alex ci saranno tutti i campioni internazionali vorrei fare un appunto per Lino per il Grand Zone io vedo qua tra la folla dei ragazzi con le maglie del Team Grand Zone infatti devo essere sincero faccio i complimenti a Lino e il Grand Zone perché scommette sui giovani che sono il futuro quindi complimenti veramente grazie a Andrea che mi ha fornito un perfetto assist perché in scaletta proprio adesso volevo chiamare i ragazzi dello Junior Team Grand Zone a fare qui davanti e mi piacerebbe che fossero tutti immortalati con Davide Cassani Alessandro De Marchi Matteo Fabbro Andrea Tarlao i nostri ospiti l'assessore Govetto e il sindaco Onsel con Luca e Dino Grand Zone applausi perché ho esordito dicendo ok però guardiamo ai prossimi 25 anni i prossimi 25 anni sono eccezionalmente rappresentati da questi ragazzi dello Junior Team Grand Zone fate le foto perfetto grazie ragazzi e adesso io richiamerei qui Paola Zelanda per la consegna eccola qua la presidentessa della basket e non solo facciamo le foto le foto eccolo qua l'assegno da 500 euro che è stata la cifra raccolta grazie a una sottoscrizione organizzata proprio da Dino Grand Zone siccome hanno detto che mi hanno spiegato che porta benissimo Andrea Tarlao si presta se volete venire a toccare la medaglia di bronzo a pesarla tra le vostre mani Andrea sta fermo qui e vi concede l'onore porta fortuna grazie ragazzi e complimenti assegno consegnato Davide Cassani io scusami Lino ma io l'ho firmato ma è coperto sto assegno? assolutamente ah ecco perché sai sì perché c'è la firma di Davide Cassani ragazzi grazie davvero per la vostra cortesia simpatia e disponibilità Dino chiudiamo ma sappiamo che c'è anche il post il post serata certamente siamo pronti e offreremo un buffet a tutti quanti grazie grazie di cuore per la tantissima gente che è venuta veramente vi ringrazio di cuore grazie buonasera a tutti grazie